Sipario 21 e Associazione Demetra vanno in scena domani sera, lo ricordiamo ancora una volta, con Salviamo il Salvabile. È quasi tutto pronto ma la notizia di oggi è una ed è importantissima. Siamo in sold out. Sì, sì, tutto pieno e sono veramente felicissimo anche di annunciare questa notizia alla città. Siamo di più di felici, ecco, straripandi di gioia perché il primo nostro spettacolo abbiamo in sold out, veramente una notiziona. La città di Gela sa accogliere veramente il nuovo fermento culturale e lo fa abbracciando una nuova compagnia che si affaccia adesso nel panorama del teatro locale. Non solo abbracciandosi, ci sta facendo veramente sentire un calore, veramente che io sono allibito. Volevo ricordare che domani sera ci saranno delle chicche che non vi voglio anticipare. E non solo questo, voglio ricordare che presenterà la serata Alice Palumbo e siamo tutti in fervento. Siamo pronti, vi aspettiamo e volevo ricordare Fabiola e anche gli altri attori. Maria Giannone, Grazia Caruso, io li leggo perché sono emozionato. Oscar Minardi, Giovanni Siracusa, Felice Endernullo, volevo ricordare il trucco e parrucco di Anna Maria Basta, il rammentatore Pari Delicata, la fotografa di scena Maria Rita Cavallo. Ragazzi, sono felicissimo. Fabiola, tu lo vedrai domani. E' importante ricordare tutti, a volte l'emozione può giocare brutti scherzi ma domani quando si andrà in scena si andrà concentrati e carichi. Carichi, l'emozione subito dopo due minuti di palco passerà. Vi aspetto chi è già prenotato, ci vedremo domani sera perché sarà una bellissima serata. Ma chi non ha trovato posto non resterà bocca asciutta perché potrà contattarvi e state già pensando ad una replica. Sì, sì, una replica perché tanti amici sono rimasti fuori, non hanno potuto acquistare il biglietto. Tra qualche giorno vi annunceremo la replica. E noi aspettiamo altre notizie, intanto ci godiamo questo debutto domani sera alle ore 21 al Teatro Eschilo. Al Teatro Eschilo, sabato al teatro, vi aspettiamo con Salviamo e Salvabile.